Passeggiando sulla fontana del Tritone, la foto in un post, appello del sindaco di Caltanisset, intervento del presidente di Italia Nostra Sicilia e dibattito su Facebook. Accordo Stato-Regione, intesa con Roma, rivisti i vincoli e via libera ai concorsi. Ben trovati. Passeggiando sulla fontana del Tritone, la foto in un post su Facebook, appello del sindaco di Caltanisset, intervento del presidente di Italia Nostra Sicilia e sul tema si apre il dibattito online. Il mio è un appello a tutte le persone che vivono nella nostra città, che siano esse italiane o meno non importa. Non facciamone una questione di colore o di nazionalità. Questi atteggiamenti non possono essere tollerati a prescindere da chi li stia mettendo in atto. Queste persone hanno approfittato della mancanza della pattuglia che regolarmente staziona in piazza in quel momento eccezionalmente imbegnata in un intervento per arrambicarsi sulla nostra fontana. Ci sono delle regole e vanno osservate da tutti. Lo ripeto, questi atteggiamenti non possono essere tollerati. Siamo tutti stranieri dentro o fuori alla fontana del Tritone. E' quando scrive il sindaco di Caltanisset, Roberto Gambino, in un post su Facebook. Sull'episodio interviene Leandro Ianni, presidente di Italia Nostra Sicilia. Il tema dell'altro, dell'immigrato, dello straniero e il suo rapporto con noi è assai delicato, complesso. E comunque è un tema piuttosto rimosso nella nostra società, nella nostra città. E' rimosso dalla politica e invece dovremmo parlarne e discuterne. Studiare, approfondire, organizzare momenti autentici di incontro e di scampio. Elaborare, porre in essere progetti di integrazione se no di inclusione. E invece si fa veramente poco, pochissimo. E ci si isola, ci si chiude sempre di più dentro alle proprie case, dentro ai propri recinti esistenziali. Insomma, si ha la sensazione ogni giorno di più in questa nostra città di essere tutti stranieri dentro o fuori dalla fontana del Tritone. Ciò che mi sento di dire, di ricordare qui e ora, considerando patrimonio comune e imprescindibile ai valori ed ettami della Costituzione italiana, sono le parole di Giddu Krishnamurti, filosofo, oratore, mistico, apolide, di etnia indiana. Noi siamo il risultato delle azioni e reazioni reciproche. Questa civiltà è un prodotto collettivo. Nessun paese, nessun popolo è separato da un altro. Siamo tutti interrellati e siamo tutti uno. Che lo riconosciamo, no? Partecipiamo alla sfortuna di un popolo come partecipiamo alla sua fortuna. Non potete prendere le distanze per condannare o elogiare, concrude il presidente d'Italia Nostra Sicilia, Leandro Ianni. Consiglio territoriale per l'immigrazione, riunione in prefettura, ha presentato il piano degli interventi. Si è riunito lo scorso 11 luglio il Consiglio territoriale per l'immigrazione, istituito presso la prefettura di Caltanissetta. Alla riunione hanno preso parte i rappresentanti della Regione Sicilia, del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, dei Comuni della Provincia, delle Forze dell'Ordine, dell'ASP, dell'Ufficio Scolastico Territoriale, dell'IMS, dell'INAIL, dell'Agenzia delle Entrate, dell'Ispettorato del Lavoro e del Centro per l'Impiego, della Camera di Commercio, delle Associazioni Rappresentative delle Principali Categorie Produttive, delle Organizzazioni Sindacali, della Caritas e delle Associazioni Rappresentative delle Comunità Straniere presenti in provincia. Al centro dell'incontro, il nuovo piano territoriale degli interventi per la gestione del fenomeno migratorio in provincia di Caltanissetta, redatto con la collaborazione dell'Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali e di Censis. È stata inoltre data notizia ai presenti dell'avviso, pubblicato sul sito della Prefettura di Caltanissetta, per la selezione di soggetti collaboratori in qualità di partner della Prefettura UTG di Caltanissetta, interessati alla presentazione di proposte progettuali a valere sul Fondo Europeo Asilo, Migrazione e Integrazione, la cui scadenza è fissata il 22 luglio. Nell'ambito delle iniziative relative alle politiche per l'accoglienza e l'integrazione, è stato inoltre presentato il nuovo vademecum per la rilevazione, i referral e la presa in carico delle persone portatrici di vulnerabilità in arrivo sul territorio e inserite nel sistema di protezione e accoglienza elaborato dal Ministero dell'Interno, in accordo con la Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo, il Ministero della Salute, l'Istituto Nazionale Salute, Immigrazioni e Povertà, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Commissione Europea, Frontex, Europol, l'Agenzia dell'Unione Europea per l'Asilo, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, UNICEF, Grocerosa Italiana e il Servizio Centrale per la Gestione del Sistema Accoglienza e Integrazione. Nel corso della riunione, inoltre, sono stati presentati i tavoli tematici operativi in cui si articoleranno le prossime attività del Consiglio Territoriale per l'Immigrazione, a proposito delle tematiche della presa in carico dei vulnerabili, della lotta al caporalato e allo sfruttamento lavorativo, dell'inserimento lavorativo e abitativo dei migranti. L'obiettivo è quello di creare positive sinergie tra gli attori coinvolti nella gestione del fenomeno migratorio. La riunione si è svolta in un clima propositivo e tutti i partecipanti hanno arricchito l'incontro con preziosi contributi e interessanti spunti di riflessione nell'ottica dell'ampliamento della tutela dei migranti e del rafforzamento dei percorsi per l'inclusione sociale degli stessi. Accordo Stato-Regione intesa con Roma rivisti vincoli e via libera ai concorsi. È stata raggiunta un'intesa tra la Sicilia e Roma sulla riforma dell'Accordo Stato-Regione per il rientro del disavanzo della regione siciliana. Il governatore Renato Schifani ha incontrato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in videoconferenza da Catania. In collegamento anche all'assessore regionale all'economia Marco Falcone, il ragioniere generale Ignazio Tozzo e il ragioniere generale dello Stato Biagio Mazzotta, è prevista una rivisitazione dei vincoli a carico della regione a partire dal superamento del blocco delle assunzioni. Nel clima di consueta e proficua collaborazione con il ministro Giorgetti, ha dichiarato il presidente Schifani, abbiamo condiviso una modifica dell'accordo che da una parte rafforza il percorso di risanamento economico della Sicilia, dall'altra elimina alcune condizioni del vecchio patto con lo Stato che ormai fungevano da zavorra per la nostra regione. Così, ha concluso il governatore, potremo innanzitutto avviare realmente la macchina dei concorsi per una vera e propria rigenerazione amministrativa dei nostri uffici e per colmare vuoti nelle piante organiche. Manteniamo dunque gli impegni presi con i siciliani, senza far deviare la regione dal virtuoso percorso di risanamento che abbiamo intrapreso e che è ormai irreversibile. Il nuovo accordo, ha continuato l'assessore Falcone, prevede un graduale aumento della compartecipazione dello Stato alla spesa sanitaria della Sicilia, fino a toccare 600 milioni di euro nel 2026, in cambio di un incremento delle quote di risparmio della regione. Questo rappresenta per noi un importante punto di svolta. Ci viene richiesto uno sforzo maggiore, arrivando gradualmente a circa 500 milioni all'anno di risparmi, utili però ad anticipare i tempi di rientro del debito della Sicilia. Potremmo onorare tali condizioni con una macchina amministrativa più competitiva, grazie alla rimozione totale del blocco del turnover. Covid, bollettino settimanale in Sicilia, nuovi positivi in diminuzione. Sono stati 289 nuovi casi di positività al Covid-19 in Sicilia nella settimana dal 3 al 9 luglio 2023. In base ai dati diffusi dal bollettino dell'assessorato regionale della salute, si è registrato nell'isola un sensibile calo di nuovi contagi rispetto ai sette giorni precedenti, con un meno 21,47%, in linea con la tendenza nel territorio nazionale e con un'incidenza di 6 casi ogni 100.000 abitanti. La provincia di Palermo è quella che ha fatto segnare il maggior numero di nuovi contagi, 100, quasi un terzo del totale regionale. Il tasso di nuovi positivi, più elevato rispetto alla media regionale, si è registrato anche nelle province di Siracusa e Caltanissetta. Le fasce di età maggiormente a rischio sono quelle over 90 e comprese tra i 70 e gli 89 anni. Il dato siciliano è conforme ai numeri nazionali che indicano un costante miglioramento. Nella settimana di riferimento sono stati 3.731 i nuovi casi, con il tasso di positività che è diminuito dello 0,4% rispetto alla settimana precedente e che si è assestato al 2,2%. La regione, con il tasso più alto di nuovi casi positivi, e le Marche, con un'incidenza dell'8,7%, seguita dalla Sardegna, con una percentuale di positività del 7,1%. Proteggiamoci dal caldo. Il Ministero della Salute pubblica un video per un'estate in sicurezza. Non si arresta l'ondata di caldo che nell'ultima settimana tiene sotto scacco tutta la nostra penisola. Le temperature hanno fatto registrare livelli record, principalmente nel sud Italia. Secondo i dati provenienti dall'elaborazione dei satelliti del programma europeo Copernicus, che mostra la temperatura della superficie terrestre, sono 47 i gradi di temperatura registrati in Puglia e sulle pendici dell'Etna in Sicilia all'inizio della settimana. Lo dimostra un'animazione della missione Sentinel-3 del programma di osservazione satellitare della Terra Copernicus, gestita dall'Agenzia Spaziale Europea e dalla Commissione dell'Unione Europea. Secondo i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, durante la scorsa estate, le temperature estreme sono state responsabili di 15.000 morti in Europa. In Italia, sempre nello stesso periodo, il Sistema Nazionale di Sorveglianza ha registrato un incremento complessivo della mortalità del 15%, più 5.635 decessi, rispetto alla media stagionale dal 2015 al 2019. Si registra inoltre un trend crescente della mortalità proporzionale al crescere dell'età, con un aumento del 21% nella classe di età di persone al di sopra degli 85 anni. Per invitare le persone a proteggersi dal caldo, il Ministero della Salute ha lanciato la campagna di sensibilizzazione Proteggiamoci dal Caldo. Dal 15 maggio è di nuovo attivo il Sistema Nazionale di Previsione e Prevenzione degli Effetti del Caldo sulla Salute ed è stata riattivata la pubblicazione dei bollettini per l'estate 2023. I bollettini sono consultabili sul sito Ondate di Calore del Ministero della Salute ed elaborati dal Dipartimento di Epidemiologia della Regione Lazio, con previsioni a 24, 48 e 72 ore. Il sistema è dislocato in 27 città italiane e consente di individuare quotidianamente per ogni determinata area urbana le condizioni meteoclimatiche a rischio per la salute, soprattutto delle persone vulnerabili come anziani, malati cronici, bambini, donne in gravidanza e persone che assumono farmaci. Proteggiamoci dal caldo. 10 semplici regole per un'estate in sicurezza. Evitiamo di uscire nelle ore più calde. Proteggiamoci di casa e sui luoghi di lavoro. Beviamo almeno un litro e mezzo d'acqua al giorno. Seguiamo sempre un'alimentazione corretta. Facciamo attenzione alla corretta conservazione degli alimenti. Vestiamoci con indumenti di fibre naturali o che garantiscano la traspirazione. Proteggiamoci dal caldo in viaggio. Pratichiamo l'esercizio fisico nelle ore più fresche della giornata. Offriamo assistenza a persone a maggiore rischio. Ricordiamoci sempre di proteggere anche gli animali domestici. Segui per maggiori informazioni www.salute.gov.it Ucristu Truvato al Kaorle Film Festival Riconoscimenti e nuove esperienze per il regista nisseno Tony Gancitano. Il regista nisseno Tony Gancitano continua a mietre riconoscimenti e premi grazie al film Ucristu Truvato. Dopo aver vinto il Leone d'ora alla mostra internazionale cinematografica indiana per la migliore regia Gancitano arriva al Kaorle Film Festival Festival internazionale. Tony Gancitano riscuota innumerevoli successi alla regia infatti con il film Lupo Bianco è stato premiato a Venezia. Tanti i suoi progetti per il futuro. È una notizia bellissima perché arriva una mail proprio dalla piccola Venezia così si chiama Kaorle dal Festival di Kaorle dove tre anni fa siamo stati con un altro mio lavoro il Risveglio di Giuffa e quest'anno l'anno scorso è andata la mia assistente Stefani Genova con il suo lavoro Essere al Chiaro di Luna quest'anno invece O Cristo Trovato è stato selezionato proprio perché secondo me c'è internamente un lavoro genuino, bello e siamo in selezione insieme ad altri altri 50-60 prodotti provenienti da tutto il mondo quindi O Cristo Trovato in italiano è il Cristo ritrovato per chi oltre oceano oltre stretto vede le cose che diciamo ed è una storia bellissima che è cominciata proprio da qui la chiesa San Domenico del quartiere Angeli dove abbiamo cominciato tutta questa storia e da dove da qui poi siamo andati avanti fino alla fine del lavoro questa meravigliosa immagine del Cristo Trovato è stata creata dallo scultore Igor Castellano è stato interpretato magistralmente dall'attore Gaetano Aronica i quattro figli amari erano Salvatore Alfano Salvatore Pavone, Jacopo Cavallaro e Pierluigi D'Angitano altre novità sono in itinere presumo proprio prestissimo saremo di nuovo sul set non voglio annunciare nulla ma saremo sul set di nuovo con Stefani Genova un nuovo prodotto a gennaio ma a settembre più che gennaio sicuramente uno spettacolo teatrale importantissimo che sto mettendo su insieme a un bravissimo attore e poi tutto quello che arriva e pian pianino ci prendiamo incontro a Palazzo Moncada ieri sera sul tema la bellezza salverà il mondo nella splendida cornice di Palazzo Moncada nell'ambito della mostra antologica Behind the Beauty si è svolto un confronto tra Giuseppe Veneziano pittore di fama internazionale di origine nissene e Luca Nannipieri uno dei maggiori critici d'arte italiani il tema del dibattito è stato la bellezza salvere il mondo i due esperti hanno offerto prospettive diverse sulla potenza della bellezza nel plasmare e trasformare il nostro mondo sottolineando l'importanza dell'arte come strumento di espressione e di cambiamento questa mostra vuole essere una risposta a questa domanda è quando un artista possa dare un contributo a arricchire questo mondo di bellezza io sono dell'idea che un artista deve essere principalmente un educatore all'arte quindi arrivare all'animo delle persone rendere più artistiche le persone stimolare il loro, diciamo, l'aspetto creativo in modo che se uno pensa alla bellezza pensa a come costruire la bellezza quindi sicuramente non penserà a distruggerla se ne conosce, diciamo, le chiavi di lettura e i codici, diciamo, interpretativi la bellezza salverà il mondo? no, la bellezza non salverà il mondo altrimenti dopo i greci, dopo la bellezza che avevano prodotto i greci eravamo già tutti salvi invece guerre, devastazioni e tutto il resto la bellezza e l'arte non sono chiamate a salvare il mondo sono chiamate però a interrogare ciascuno di noi sulle ragioni del nostro vivere e del nostro morire e l'arte fa questo da millenni fa tante cose, ma soprattutto fa questo Dante, Leopardi, Michelangelo o in maniera assolutamente più irriverente più provocatoria e priva di pudore Giuseppe Veneziano che attraverso queste opere e le altre che nel corso del tempo ho potuto vedere indaga il nostro modo di reagire con i nostri pensieri, i nostri desideri le nostre inibizioni, proibizioni i nostri tabù e lo fa in una maniera assolutamente originale ed è il motivo per cui sia anni fa mi sembra al Museo Macro di Roma sia ora qui a Caltanisetta sono a dialogare con lui sulla bellezza che non salverà il mondo però pur non salvandolo dedica a tutti noi uomini sia gli artisti contemporanei come Giuseppe Veneziano sia gli artisti del passato un'indagine profonda sul nostro vivere e sul nostro morire Caltanissetta centri estivi al via previste attività sportive e in laboratorio per giovani fino a 17 anni A Caltanissetta è tutto pronto per la partenza dei centri estivi 2023 rivolti ai bambini e agli adolescenti dai 3 ai 17 anni sono molti gli enti e le associazioni che hanno partecipato al bando indetto dal comune lo scorso giugno e tra i partecipanti sono state scelte se in realtà che hanno presentato progetti ritenuti idonei dalla Direzione Politica e Sociali Sociosanitaria Scuola del comune di Caltanissetta il 10 luglio scorso e che quindi saranno finanziate con un importo di poco superiore a 61.000 euro le proposte progettuali riguardano la realizzazione di attività inclusive poiché rivolte a bambini e ragazzi anche diversamente abili educative, sportive, ludico-ricreative e di laboratori a favore dei minori interessati in ambito sportivo i bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni potranno partecipare all'attività calcistica che si svolgerà nel campo Michele Amari di via Portella della Ginestra con i progetti Estivamente presentato dall'Associazione Polisportiva Nissena e Viva Caltanissetta 4 presentato dall'Associazione Sport Club Nissa 1962 mentre i quattro progetti a carattere prevalentemente ludico-ricreativo e di laboratori saranno Spazio Ragazzi alle Emozioni progetto rivolto dai nisseni dai 3 ai 17 anni e proposto dall'Associazione Watanka l'estate al centro storico progetto rivolto ai bambini dai 3 ai 12 anni e presentato dalla cooperativa La Salute gioco anch'io sport per tutti rivolto ai ragazzi dai 6 ai 16 anni e proposto dall'Associazione Centro Posture Benessere e Facciamo Natura 2023 per i bambini dai 6 ai 12 anni e presentato da Legambiente questi progetti si svolgeranno nei quartieri Provvidenza e Angeli alla Villa Comunale e all'Oratorio del Villaggio Santa Barbara e dal Parco Dubbini gli enti ed associazioni ammessi e finanziati dal Comune nell'emore di stipulare le apposite convenzioni inizieranno le attività previste immediatamente dopo aver presentato la propria richiesta di avvio attività Calcio eccellenza il punto sulla campagna di potenziamento delle squadre pretendenti al salto in Serie D Parte la rincorsa al prossimo campionato di eccellenza che ai nastri di partenza vede al momento tre squadre favorite alla vittoria finale La Nissa e il Profavara puntano senza mezzi termini alla vittoria del campionato un gradino sotto parte la grande delusa della stagione appena conclusa ossia l'Enna che ha perso la finale playoff contro il Siracusa La società biancoscudata si è affidata al filone a Cragantino che ha vinto il campionato dal direttore sportivo Russello a Mister Terranova per passare all'ossatura della squadra partendo dal portiere Elezai la coppia centrale Neri Barrera il ritorno di Cristian Caccetta e l'ala Gaston Semenzin impreziosita dagli altri acquisti a Rusa Magro, Serafino, Castellanos e il centravandi a Gudiac La Profavara ha arricchito la sua campagna acquisti con l'ultimo arrivato Luca Ficarrotta dove ha ricevuto anche i complimenti dell'imprenditore Luca Giovannone definendolo come un grandissimo acquisto di mercato Ficarrotta, la scorsa stagione al Siracusa è l'ultimo colpo in ordine di tempo piazzato dalla dirigenza favarese dove si era già assicurata le prestazioni di Cannavò, Lucarelli Di Bella, Bertella, Sansone Noto, Bontembo e l'esperto Desiderio Garufo L'Enna perde due colpi come a Gudiac passato alla Nissa e il forte terzino Arcidiacono passato di recente al Siracusa ma il mercato è ancora lungo e la squadra gialloverde saprà rinforzarsi al meglio per riprendere la caccia alla D oltre alle tre contendenti il campionato saprà regalare qualche minavagante come Atletico Palermo Don Carlo Misilmeri e le due squadre di Mazzara La Profavara ingaggia l'attaccante palermitano Luca Ficarrotta ex Siracusa gli auguri dell'imprenditore Luca Giovannone ai favoresi Se Profavara ingaggia Luca Ficarrotta va a rinforzare ancora di più la propria compagine e la conferma che gli amici favoressi stanno facendo le cose in grande Io con simpatia gli faccio a Luca Ficarrotta e ai tifosi del Profavara i miei auguri per i massimi risultati e logicamente noi della Dissa cercheremo di competere il più possibile e quindi auguri a Profavara e forza a Dissa Ancora calcio Filippo Costa il nuovo responsabile del settore giovanile della New Team previste due squadre giovanissimi e una allievi Dopo due stagioni esaltanti alla guida della Nissa Futsal il nisseno Filippo Costa assume l'incarico di responsabile del settore giovanile dell'associazione sportiva New Team che da quest'anno sarà presente con due squadre giovanissimi ed un allievi Nato nel capoluogo nisseno il 24 febbraio del 1988 Costa nelle ultime due stagioni ha ricoperto il ruolo di coach della prima squadra della Nissa Futsal vincendo due campionati di fila e l'ambita Coppa Trinacre regionale portando la squadra a un passo dalla competizione nazionale L'anno scorso ha maturato un'ulteriore esperienza sul campo facendo anche parte dello staff tecnico della Nissa in eccellenza Abbiamo già strutturato il settore giovanile come se fosse una prima squadra abbiamo ingaggiato dei tecnici abilitati alla disciplina appunto dicevo come una prima squadra abbiamo preso i preparatori portieri abbiamo preso i preparatori atletici abbiamo selezionato dei dirigenti tutto quello che serve per essere proprio una prima squadra e fare sentire questi ragazzi come se fossero grandi ecco perché comunque ancora sono piccolini però è il nostro frutto locale e quindi sono molto soddisfatto per aver sposato questa causa il nostro primo obiettivo è educarli prima come persona e poi educarli calcisticamente il nostro sogno orgoglio personale è quello di vederli un giorno chissà debuttare con qualche squadra con qualche maglia importante è tutto vi lascio al meteo e alle informazioni di pubblica utilità grazie per l'attenzione e appuntamento rinnovato alle prossime edizioni un saluto ben ritrovati con le previsioni di Trebi Meteo nella giornata di venerdì sull'Italia continuerà a dominare l'alta pressione africana anche se al nord ovest in particolare ci sarà una residua nuvolosità con anche qualche pioggia associata legata ai passaggi temporaleschi dei giorni scorsi infatti osservando la mappa della nuvolosità notiamo ancora qualche addensamento sui settori nord-occidentali soprattutto con associata qualche debole precipitazione questo lo notiamo anche dallo zoom delle piogge altrove comunque il clima rimarrà asciutto pressoché ovunque per quanto riguarda quindi la giornata di venerdì avremo un contesto ancora stabile soleggiato su gran parte d'Italia al centro-sud ma anche al nord-est dove si libererà velocemente il cielo dalla nuvolosità mentre al nord-ovest in mattinata ci saranno molte più nuvole con anche qualche pioggia sul Piemonte a ridosso delle Alpi in esaurimento con l'andar del giorno clima sempre rovente al centro-sud valori che comunque tenderanno a rialzarsi al nord per maggiori dettagli continuate a seguirci sull'app di Trabi Meteo Servizi di pubblica utilità Farmacie di turno Caltanissetta Servizio diurno Buonasera Via Edmondo De Amicis Servizio notturno Scarantino Via Paolo Emiliani Giudici Grazie a tutti i nostri Grazie a tutti i nostri